beppe tasara clayland range ospite d'eccezione isabella mafei per due anni consecutivi campionessa al roping challenge sono due anni che vince lei è la donna da battere gli chiediamo cosa ne pensa di questa manifestazione un'idea molto bella per le donne del roping che hanno vita un po difficile contro tutti questi maschietti una disciplina molto maschile che sta avendo un successo veramente incredibile in italia dove le donne che fanno roping erano poche e in tre anni stanno diventando veramente tante bene quale qual è la disciplina del roping dove ti senti più forte il team roping sicuramente e quella dove ti senti meno preparata il triggers doctoring forse bene abbiamo qui con isabella joe col detto fragolino che è un cavallo è il cavallo forse più titolato di tutto il panorama roping italiano è un cavallo che ha già due titoli europei al suo attivo montati da montato da cavalieri diversi e è un cavallo che tu hai preparato da sola no l'ho comprato che aveva due anni quando era ancora puliedro da domare poi l'ho portato in doma da beppe tasara è sempre stato sotto il suo addestramento e questo è il risultato che abbiamo avuto grazie isabella mafei la donna da battere perché il roping è diventato anche donna beppe tasara isabella mafei clayland ranch e e e e e